brum brum un saluto a tutti allora torniamo a parlare della ferrari dopo il gran premio del brasile che ha visto una vittoria mercedes inspirata del giovane pilota george russell che ha battuto luis emilton al secondo posto e carlos sainz terzo che possiamo dire la gara è stata di per sé molto bella visto degli incidenti all'inizio che hanno visto coinvolti il pilota campione del mondo verstappen con hamilton e poi norris con il pilota della ferrari leclerc grazie a una safety car poi è una migliore gestione delle gomme sainz è riuscito ad arrivare terzo ma bisogna dire subito una cosa molti commentatori hanno detto che la ferrari è rinata ma a me non è sembrato questo perché più che altro mi è sembrato che la red bull che è calata soprattutto con perez che a fine gara aveva grossissimi problemi a gestire le gomme mentre la mercedes sta migliorando le sue prestazioni adesso c'è un'indiscrezione che gira sui giornali ho appena letto auto sprint che dice che binotto è arrivato al capolinea e quindi john el cannes starebbe pensando di sostituirlo con il general manager della alfa romeo frederick vasser e io penso che la cosa potrebbe succedere finalmente ci liberiamo di binotto che secondo me ha fatto un sacco di danni in questi quattro anni il suo unico merito è stato quest'anno di essere riuscito a fare una vettura molto performante in qualifica ma ha avuto grandi carenze nella gestione dei piloti delle strategie e soprattutto la macchina ha avuto grossissimi problemi di affidabilità pertanto parlando ancora delle indiscrezioni sembra che john el cannes ne abbia i cabasisi pieni di binotto come noi tra l'altro che non lo sopportiamo più tant'è vero che lo stesso binotto non si è presentato né ad austin né in messico né in brasile è rimasto nel suo garage di maranello addirittura gli iscritti alla newsletter della ferrari hanno ricevuto un'email di scuse nel penultimo gran premio ma le scuse secondo me non dovrebbe farle fan ma dovrebbe farle ai suoi datori di lavoro cercare di capire se lo terranno ancora alla guida della ferrari perciò binotto tra l'altro non gode di buone di buoni rapporti neanche con le clerche visto che nell'ultima gara c'è stato uno strano teatrino con le clerche che ha implorato alla ferrari di farlo passare di far riprendere il polio per recuperare qualche punto in classifica ma per motivi contingenti legati al fatto che sainz era sotto investigazione quindi la manovra non non era sicura per mantenere sia la terza che la quarta posizione gli è stata negata forse una piccola caduta di stile da parte del monegasco ma anche qui una errata gestione dei piloti perché non è necessario gestire queste cose a fine gara andrei andrebbero su questi problemi andrebbero risolti a monte e gestiti a monte perciò vediamo quali sono i prossimi sviluppi la prossima domenica ci sarà il gran premio di av dabi ci auguriamo che la ferrari riesca a vincere ma poi vedremo se binotto sarà realmente licenziato un saluto a tutti e brum brum